SON PRONTI I PORCORN Sono pronti i PORCORN Eccoli! Allimano! E' finalmente PORCORN Sono buonissimi! Allimani fatti in cuscina con cinque! Raga! Ma il film? Ce l'hanno Scoi e Lina Strana Dovrebbero arrivare a breve Oh raga! Nooo! Dai ora vediamoci questo pezzaccio va! Mamma esco! E dove vai? Vado a prendere a cinghietto un paio di neri! Maledetto papà! Uffa che palle! Papà esco! E dove vai? Vado a prendere a cinghietto un paio di neri! Hai chiesto mamma? Si ha detto che possa andare! Va bene non fare tardi però che in giro c'è brutta gente! Che palle! Va bene! Ma esco! E dove vai? A sfarcare qualche vetrina con gli estintori! Va bene brava! Maledetto papà! Uffa che palle! Papà esco! Hai già parlato con mamma? Si ha detto che va bene! Ok però copriti che fa freddo! Si che palle! Non so! 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 Servi dei! Servi dei! Sotto il fulmine cerchiato! Il mio destino s'hanno dato! L'unico fascista buono! È il fascista morto! Sta a sentire verme il tifoso! Tu non mi fai paura io ti mando al riposo! C'è una sola violenza che può accettare! Rotta di classe! Contro potere! Violenza mettata da necessità! Necessità oggettiva! Quella di poter campare! Il campare liberato dalla morte! Se ci rapida la forra! Al passaggio dell'erraffata! Se avvolto la postura! Esco! Sare tutti! I teorici del conflitto credono che chi governa non sia un legittimo rappresentante di cittadini, ma una delle parti sociali che con la violenza ha ottenuto la supremazia sulle altre e riesce a riosservire in sé tutte le forme di dissenso nei suoi confronti. Martin Luther King, ad esempio, oggi è un simbolo della democrazia americana, che soltanto 50 anni fa lo criminalizzava. Per questo, quando si parla di movimenti estremistici, si riferisce a persone che credono che l'unico modo per costruire un'alternativa sia sovvertire il potere dominante o soffocare le altre parti sociali. Oggi molti fenomeni sono etichettati come violenti. Ciò non permette di comprendere quale differenze ci siano tra un episodio e l'altro. In altre parole, qual è il limite della violenza? Cosa distingue un partigiano da un terrorista? La strage in Norvegia, gli scontri di Roma del 15 ottobre, la contestazione Notav, la strage di Firenze. Sono tutti sullo stesso piano. Eppure ognuno di esse è stato definito in un certo modo una forma di violenza. La stessa lotta partigiana che celebriamo ogni 25 aprile è stata una rivolta armata contro le istituzioni dell'epoca. Quando allora combattere è giustificabile? O meglio, quando non lo è? Grazie a tutti!